L'Isola dei Famosi L'Isola dei Famosi, ha Mauriz costretto a rispettare dei limiti dopo il malore Eccoci con il consueto appuntamento dedicato al popolare reality show L Cancelletto Isola dei Famosi 2018, condotto per il quarto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi, è giunto quasi alla fine. Finalmente nel daytime trasmesso oggi, Cancelletto Amauriz Perez è ritornato su Playados, per la felicità del pubblico e dei suoi compagni d'avventura. Ecco come sta il pallannotista cubano Come ben sanno i telespettatori, alcuni giorni fa uno dei concorrenti rimasti ancora in gara, precisamente il primo finalista Amauriz Perez, dopo aver accusato un malore improvviso, ha abbandonato il gioco per sottoporsi a degli accertamenti medici, lasciando nello sconforto più totale il resto del gruppo, soprattutto Alessia Mancini che ha sentito molto la sua mancanza. In particolare quest'ultima nei confessionali ha dichiarato di non riuscire a continuare il reality senza la presenza dello sportivo, che durante questa esperienza ha sempre dimostrato di essere forte. Fortunatamente il pallannotista cubano nella puntata pomeridiana andata in onda venerdì 6 aprile 2018, ha fatto ritorno sull'isola, rendendo felici i suoi compagni d'avventura, che sono stati molto contenti di rivederlo. Furtroppo Amauriz ha spiegato agli altri naufraghi che non potrà svolgere attività faticose che potrebbero giovare alla sua salute, come ad esempio stare tanto tempo in acqua o cercare la legna. Angela Rende rivela perché non va più in televisione e proprio così, Amauriz dovrà rispettare dei limiti, ma sicuramente per lui sarà molto difficile stare con le mani in mano. Purtroppo la moglie dello sportivo sta affrontando una situazione difficile lontana dalle telecamere, precisamente da quando è stato svelato nella trasmissione di Barbara D'Urso che suo marito avrebbe avuto un presunto flirt con una naufraga sulle spiagge di Caio Cochinos. Purtroppo la moglie dello sportivo Ha scelto di stare lontano dai riflettori, per dedicarsi ai suoi tre figli ed ha aggiunto di fidarsi del marito, perché non ha mai dubitato di lui, nemmeno quando sono stati spesso lontani per lunghi periodi. Per ricevere ulteriori notizie sui protagonisti dell'Isola dei famosi 2018, è opportuno seguire il sito Blasting News. Per ricevere ulteriori notizie sui toddler, con una Plaggia della crema spezia��stood E piccola prezzuinti malone ακaci golfi nell'esola. Verra, scosso. Ediccio, bella?